Come molti sanno, nelle ultime settimane un branco di lupi è diventato stanziale in una zona semiurbana di Fano, tra i quartieri del Vallato e di San Lazzaro, con avvistamenti continui sia diurni che notturni. La situazione sta diventando di estrema preoccupazione tra i residenti, anche a seguito di predazioni verso animali domestici. Ho voluto scrivere alla Regione, all'assessorato competente e alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche, pur sapendo che la materia non è di competenza completa della Regione, ma ritenendo opportuno che la Regione debba far presente quanto prima la situazione alle autorità competenti e richieda la messa in campo di tutte le azioni necessarie ed opportune affinché questo branco di lupi sia allontanato dalla zona in cui si è insediato, non evitare il verificarsi di ulteriori preoccupazioni e o danni.